Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo ad analizzare un nuovo giovane calciatore che milita in questo momento nel campionato di Primavera 1. Prima di iniziare però volevo ricordarvi alcune cose. La prima è quella di lasciare mi piace al video, di iscrivervi al canale e di inoltre se vi siete persi gli scorsi episodi su questa serie li trovate nella playlist sul nostro canale. Quindi se ancora non l'avete fatto andate anche a vedere gli scorsi episodi sia di questa sagione ma soprattutto anche quelli della scorsa. Detto questo iniziamo subito. Oggi parleremo di Hubert Idasiak. Hubert Idasiak è un classe 2002 e quindi nel momento in cui stiamo registrando il video ha appena compiuto i 20 anni. Hubert Idasiak gioca come squadra di club nel Napoli. È nato in Polonia dove è anche cresciuto calcisticamente. È un portiere che nonostante faccia questo ruolo appunto non è molto alto. È alto solamente tra virgolette 1 metro e 85. Come piede principale utilizza il destro ed è anche uno dei convocati dopo aver fatto anche diverse categorie inferiori anche uno dei convocati in nazionale polacca under 19. Come ruolo, come già accennato, fa il portiere come avete visto anche dall'immagine quindi è un ruolo molto molto delicato ma che come poi andrete a vedere è un giocatore che anche per merito della sua esperienza in Primavera, Primavera 2, visto che Napoli è una delle neopromosse di questa stagione ma è un portiere che ti riesce a dare quella tranquillità in più che altri giocatori in quel ruolo, in quella categoria, non ti sanno dare. Come statistiche ha giocato solo in Primavera 1, ha fatto 17 partite, 28 gol subiti e ha ottenuto 2 clean sheets. Nonostante i numeri delle reti subite siano tanti, in molte occasioni è stato determinante a salvare la propria squadra portandola poi a un campionato che è già abbastanza positivo visto e considerando che il Napoli, come già detto, è una delle squadre neopromosse. Come somiglianze, come anche lui ha detto in una recente intervista abbiamo deciso di paragonarlo a David Ospina, portiere della prima squadra del Napoli con cui ha delle caratteristiche molto simili, come poi andremo a vedere tra i pregi e i difetti di questo calciatore. Quindi sicuramente, avendo anche poi il Napoli prima squadra un pacchetto portieri molto interessante, con due portieri che sono entrambi molto validi ma che hanno caratteristiche molto diverse tra David Ospina e Alex Meret quindi sicuramente può crescere tanto e può imparare molto dai suoi due principali portieri sia per il presente sia per il futuro. Nella sua carriera ha fatto solo un trasferimento è passato dall'AP Pogon, appunto squadra polacca al Napoli che lo ha visionato e poi prelevato a titolo definitivo gratuito quindi il Napoli ci ha puntato e per adesso questo investimento sta funzionando perché ha preso molta importanza ed ha avuto anche in un'occasione la possibilità di giocare nonostante poi sia questa possibilità sia svanita. Come pregi abbiamo deciso di assegnargli quello della posizione tre pali soprattutto da palla da fermo un portiere che sa mettersi nella posizione giusta e che molte volte è questo poi lo salva da possibili gol o sul proprio pallo o sopra la barriera stiamo parlando ovviamente di punizioni. La presa è un portiere che ha un'ottima presa sia in un tempo ma anche in due quindi è un portiere che sa come gestire le proprie capacità sa decidere quale dei due gesti tecnici utilizzare e poi inoltre abbiamo deciso di mettere anche la reattività perché è un portiere che è molto reattivo può darti qualcosa in più e sicuramente è un portiere di buona buona qualità come adesso andrete a vedere dalle clip che abbiamo selezionato per voi. Arriva il fisco dell'arbitro tutto pronto parte con il destro la grande risposta di Dasiak e poi il gol Ciboso da sotto porta 1-0 Juventus è punizione dal limite con una risposta eccezione Napoli dare la possibilità di calciare una punizione del genere dal limite perché la Juventus ha grandi battitori e poi qui si sono fatti trovare impreparati nella ribattuta e ora sarà una partita completamente diversa perché Napoli dovrà comunque cercare di venire fuori di mettere la testa fuori e di reagire. Le donne Asa limita dell'area va a calciare qui si distende bene i Dasiak molto attento direttore della Secular H palla larga per Mulazzi sfida l'avversario rientra sul destro prova la conclusione sempre molto attento i Dasiak di spazio adesso lo va subito a chiudere Colissaco Asa dai 30 metri prova la conclusione al 72esimo Barba perde palla nella propria metà campo delle monache si invola verso la porta va al tiro ma i Dasiak attento ora che avete visto le clip che andavano ad esaltare i pregi del giocatore andiamo ad analizzare i difetti che questa volta abbiamo deciso di metterne due il primo difetto l'ha detto anche lui sempre nella recente intervista di cui ho citato anche prima e riguarda quello dell'utilizzo dei piedi ormai come tutti sanno il portiere oltre a a saper utilizzare le mani deve essere deve migliorare tanto dal punto di vista del gioco della qualità del proprio passaggio del del tiro lungo preciso quindi sicuramente il giovane portiere dovrà migliorare su questo aspetto sulla tranquillità quando si ha la palla tra i piedi sia sull'utilizzo di entrambi i piedi nello stesso modo in modo equivalente quindi questa è una cosa che riguarda tanti portieri della serie A un miglioramento che ci deve essere ma lui visto che è anche un portiere ancora molto molto giovane può farlo con più qualità tecnica e con più apprendimento ricordando anche i due portieri che il Napoli ha in rosa altro difetto che abbiamo deciso di inserire riguarda quello delle uscite è un portiere che soprattutto nelle uscite alte appare ancora un po' insicuro deve cercare di migliorare e decidere se in alcune volte è meglio uscire o in altre è meglio restare tra i pali non creando quelle situazioni di incertezza che poi vanno a facilitare gli attaccanti detto questo io spero che il video vi sia piaciuto noi ci rivediamo con un prossimo video qua sul canale ciao a tutti